Campo a Dakota con Alessandro Se prepari India con Walter Girolami Resta, 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 resta Dakota, resta Resta Dakota, Dakota, dai, dai, dai Dai, dai, dai Dai, dai, dai Dai, dai Dai, dai, dai Dai, la patta, lascia il numero dai, dai, ho! Jenny, Jenny, Dai, la patta, lascia il numero dai, dai, ho! Dai, la patta, lascia! Dai, la patta! La patta, ti do l'uno! Coda! Dai! Prozza, dai che ti do l'uno al punto di fare! Dai, dai, qua! C'è una palletta di sangue, come? Che è il numero dai, cosa? C'è una palletta di sangue, come? Dai, la patta, madonna santa! E' un numero dai, qua! Prezzo, tu, 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 tu! Dai, la patta, la patta! Dai, la patta, madonna santa! Ale, vuoi questo che suona? Si! Eh, si va, eh! E poi, qua, qui, qua, qui! Sottotitutto! Beh, voi lo vedevole! Sottotitutto! Monglla, questa è una palletta 게 cha questo! Lavoro dell'a WWE Ah, 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 ah.